Il libro è la trascrizione di esercizi spirituali che io ho ottenuto a dei sacerdoti che partecipano annualmente a un corso promosso da Comunione e Liberazione per sacerdoti e quindi nasce da qui e nasce dal mio desiderio di cercare di offrire ai sacerdoti un po' quello che io sto riflettendo anche sui tempi che viviamo e quindi sul contesto culturale molto cambiato che è quello di oggi. Ma io credo da parte dei giovani il messaggio è quello di cercare di non svendere quelle che sono le loro autentiche esigenze, le loro vere domande, di non accontentarsi mai di risposte a buon mercato, ma di cercare sempre quello che veramente può soddisfare e riempire il loro cuore. E poi mi auguro che trovino degli adulti che sappiano aiutarli a volare alto e quindi a proporgli degli ideali grandi per cui possano entusiasmarsi.